Grazie a Dilenia per questa esaustiva panoramica di quelle che sono le tecniche e le analisi disponibili in un laboratorio di genetica forense. E' chiaro che il nostro intento oggi non è semplice perché vuole stimolare da una parte la curiosità, dall'altra deve evitare di entrare in tecnicismi eccessivi perché non abbiamo né il tempo né la possibilità di affrontarli con la profondità che certe tematiche meriterebbero. Perché dico questo? Perché esistono delle problematiche identificative, come detto giustamente dalla dottoressa Caglià, come ricordato dalla dottoressa Pietrangi. Queste problematiche interpretative attengono essenzialmente alla difficoltà a volte di riuscire a dimostrare quello che noi affermiamo. Perché la prima cosa che io vorrei suggerire è che il genetista forense è chiesto di sapere, è chiesto di saper fare, ma è chiesto soprattutto di saper dire. Questo è un aspetto molto importante. Secondo me molte delle problematiche interpretative, o alcune, almeno alcune di queste, si possono anche risolvere. Se abbiamo un modo efficace, una comunicazione efficace. Io parlavo inizialmente di difesa del dato, no? Che giustamente il dato, giustamente, ha ricordato la dottoressa Caglià, è il dato è oggettivo. È oggettivo nel momento in cui è davanti alla mia scrivania. Nel momento in cui lo firmo e lo porto al PM, io quel dato lo devo difendere perché è un dato in cui ci credo. Questo è il senso che io volevo dire. Nessuno deve avere, perché nessuno deve avere un'opinione preconcetta. Questo lo è, perché è stato dimostrato, vi farò vedere forse qualche cosa, che se noi abbiamo un'opinione preconcetta, è possibile che interpretiamo i dati in maniera un po' concettiva. Chiaramente ho parlato di una difficoltà. La difficoltà qual è? È quella che, questo è un vecchio proverbio indiano, quello che sento, dimentico, quello che vedo, ricordo, quello che faccio, capisco, che l'unico modo che ho avuto nella mia esperienza di capire realmente i problemi è quando le ho fatte le cose, quando mi sono dovuto trovare a scrivere una relazione e quante idee nuove vengono durante, quando uno scrive una relazione diciamo, vedi, questo è un problema che si può risolvere anche in questo modo. Quindi da questo punto di vista la pratica, come ricordato dal professor Arcudi e come un po' opinione condivisa da tutti, è l'unica cosa che abbiamo per difenderci, per aumentare la nostra sensibilità, la capacità di interpretare. Chiaramente dobbiamo parlare di errori, perché è chiaro che problematica interpretativa vuol dire imparare dagli errori che sono stati commessi in passato, problematica interpretativa vuol dire cercare di porre rimedio a questi mediante delle criteri, parametri di interpretazione. I test forensi, così come le testimonianze oculari, tutto quanto quello che attiene al processo hanno un margine di errore. Il professor Presciuttini ci dirà in che modo è possibile stimare il margine di errore, perché anche il laboratorista lo deve sapere. Ma errori, io voglio dire subito una cosa, voi sapete che esiste l'Innocent Project in cui vede l'utilizzo del DNA a scopo di scarcerazione, passatemi il termine. Il DNA non è uno strumento che serve per inquisire, per identificare e quindi per attribuire reati, ma serve anche a tutela delle persone. Questo è un aspetto molto banale per molti, ma è bene qui sottolinearlo. La prima applicazione penale del DNA in ambito forense è servita per scagionare una persona che era stata accusata ingiustamente. Quindi è uno strumento di garanzia. E io credo che quando mi ha fatto riflettere da quanto detto la generale Cataldi, che si produce sicurezza, che è vero questo, e anche il DNA è un produttore di sicurezza, è uno strumento attraverso il quale la sicurezza deve venire, perché la sicurezza è anche certezza dell'identificazione. E da questo punto di vista dobbiamo essere molto chiari che tutte le difficoltà che sono state incontrate, dottor Spinella ne sa qualcosa, per far capire che il DNA non contiene il profilo genetico di DNA, non contiene delle informazioni biomediche, il profilo di DNA non contiene informazioni biomediche utili in alcun modo. Non ce l'ha. Contiene lo stesso informazione delle impronte digitali. Cioè questo lo dobbiamo dire. E se non abbiamo avuto problemi sulle impronte digitali, perché lo dobbiamo avere sul DNA. Su questo dobbiamo essere molto chiari. È ovvio che la molecola del DNA, nella sua interezza, possiede a priori la possibilità che io possa analizzare altre regioni per scoprire cosa, però. Al momento l'utilizzo che ne posso fare è molto limitato. Mi piacerebbe molto poter prevedere le malattie. Io mi occupo anche di genetica medica. Mi piacerebbe molto poter dire indirizziamo la tua prevenzione primaria specialmente su questa patologia perché sei più esposto. Questo non lo possiamo fare. Né per i tumori, né per le malattie croniche. Quindi al momento questo problema della privacy è fortemente ridotta. Se non è legata essenzialmente alle attribuzioni di parentela. Potrei scoprire relazioni differenti, ma onestamente il vantaggio, il rapporto rischio-beneficio è a sfavore. Prendo cinque minuti di parentesi perché mi sono accorto mentre ero lì che effettivamente noi abbiamo giustamente parlato tutti, ed è normale che sia così, degli ascertamenti in ambito penale perché sono quelli che ci interessano di più, perché sono quelli che mostrano più difficoltà. Però ho pensato anche che problematiche interpretative possono anche esserci nei procedimenti civili, quindi nell'accertamento di parentela. E siccome credo che un ambito importante, parliamo di occupazione, parliamo di primo approccio alla generica forense, possa essere anche l'ambito civile perché per l'ambito penale abbiamo detto ci vuole una certa esperienza, volevo riportarvi solo due o tre cose che ho voluto focalizzare in questo documento che abbiamo fatto con la Società Italiana di Genetica Umana e che secondo me era importante. La prima cosa che voi sapete è che non è possibile analizzare il DNA se non abbiamo avuto il consenso ad analizzarlo. E questo è valido per i minori, il cui consenso deve essere dato da tutti coloro che esercitano la potestà pogginitoriale e quindi non possiamo analizzare papà e figlio senza che la madre ne sia a conoscenza. Ed è questo quello che avviene nell'80% delle richieste. Perché ho un dubbio, non voglio sfasciare il matrimonio e quindi faccio prima l'analisi, se non è mio figlio lo sfascio, se invece è mio mi sto zitto, questo è un po' il criterio. Quindi se dal punto di vista razionale è condivisibile dal punto di vista legale questo assolutamente no. E quindi c'è l'equivoco che è una problematica interpretativa del test informativo e del test legale. Il test di accertamento del parentale è uno e vale, se è fatto bene, vale in tutto il mondo. È uno. Non è che c'è quello informativo e quello legale. Ha valore legale perché è un test genetico. Se lo facciamo in modo illegale non ha valore legale ovviamente. Questo qui non si può chiamare informativo. Informativo è un modo carino per dire che è fatto in contrasto alle leggi. Questo dobbiamo essere molto chiari da questo punto di vista e bisogna che anche prendiamo posizione su questo. E l'altra cosa che volevo dirvi è che a volte una delle cose più difficili per chi fa accertamento di parentela è anche l'identificazione delle persone. Perché l'identificazione? Perché il principio del test legale è che io, che effetto il test, ho identificato le persone che sono venute. Ebbene questo è un aspetto non così semplice perché la maggior parte delle persone vi richiederanno di effettuare degli accertamenti separatamente. Ovvero padre, siccome quando c'è un accertamento di parentela i rapporti non sono proprio distesi. Quindi molto spesso desiderano non incontrarsi. Io questo ai miei studenti, a coloro che fanno questo mestiere, cerco di sconsigliare l'esecuzione del test in momenti separati. Questo perché in questo modo le persone si riconoscono vicendevolmente. Perché c'è uno che ha interesse e un altro no. Normalmente avviene questo. In questo modo si controllano vicendevolmente. Perché vi dico questo? Perché io devo identificare, magari, io non sono un esperto di identificazione o di analisi dei documenti. Ma può capitare, a noi una volta è capitato, che possa venire il dubbio che sia venuto il fratello della persona. Non il presunto padre, ma un fratello. Non è detto che voi lo riconoscete dal documento. Allora da questo punto di vista è sempre bene che vengano tutti. Non si può fare in via separata. Voglio che vengano tutti insieme nel laboratorio, nel laboratorio, in modo tale che ho un alimento di certezza in più. E anche, esistono delle problematiche interpretative perché il DNA muta. Il fatto che noi siamo tutti diversi, la bellezza di questi sistemi, la capacità che hanno di identificare ciascuno di noi in modo così specifico, dipende dal fatto che il DNA muta. Diciamo che cambia anche da una generazione a un'altra, anche nella generazione che noi vogliamo dimostrare. Quindi è possibile che in un accertamento alcuni di questi marcatori, noi riceviamo una parte del DNA, un omologo dal padre, un omologo dalla madre, e quindi siamo per il 50% uguali alla mamma, per il 50% uguale a papà. Su questo si basa l'accertamento di parentela che domani vedremo in dettaglio, ma è chiaro che nel momento in cui uno di questi sistemi possa non tornare, questa è una cosa che può accadere, il fatto che tra me e mio padre, su un cromosoma, vi sia una variazione, che quindi non sia uguale a mio padre. Questo può succedere, questo va, è una cosa ordinaria, succede sempre più spesso perché i sistemi sono in un numero sempre maggiore, e dobbiamo saperlo affrontare, quindi la qualità, io dico sempre per i miei collaboratori, che la qualità si vede nell'1% dei casi, nell'altro 99% è ordinaria amministrazione. La qualità viene nel momento in cui tu hai un problema, lo devi sapere risolvere, e devi dimostrare che l'hai risolto, non basta solo risolverlo, devi anche dimostrare che l'hai risolto. Ritorniamo al discorso penale. Questo è da Rilante che è stato recentemente scagionato perché, abbiamo detto, vi erano stati degli errori nelle indagini che non rientravano col DNA, però, devo dire. Ma perché ho messo questa immagine? Perché di fatto la maggior parte degli errori che il DNA ha vissuto, li abbiamo vissuti in un'epoca precedente, questo lo dobbiamo dire, quando le tecniche, le tecnologie non erano quelle di oggi. Si, parlavamo prima con la dottoressa Caglià, erano tecniche, non dico rudimentali, ma erano tecniche avanzatissime per l'epoca, ma se le vediamo oggi, preistoriche. Vi ho fatto l'esempio dell'iPhone e del primo personal computer, per darvi un'idea che in genetica forse abbiamo avuto un'evoluzione ancora superiore. Non tanto nel potere identificativo, perché questo sarebbe riduttivo, ma nella standardizzazione, nella riproducibilità del dato, nella facilità di interpretazione. Questa è stata l'evoluzione che noi abbiamo avuto, ed è per questo motivo che noi abbiamo avuto molti meno errori. Voi andate a vedere il sito dell'Innocent Project e vedete le date delle persone che sono state accusate o che hanno subito dei danni a causa della prova del DNA. Rarissimo che vi siano casi recenti. Vedremo quali sono poi, ve ne sono alcuni, vedremo poi quali. questo è il grande vantaggio, la tecnica è solida. E allora dobbiamo stare attenti ai criteri di interpretazione, che molti dei quali sono migliorati, per grazie alla tecnica. Adesso la conoscenza ne porta altri. La conoscenza, la potenza di questi tech hitter, quello che noi fino a 3-4 anni fa non potevamo analizzare, oggi lo analizziamo. Questo però, come accennato giustamente dalla dottoressa Caglià, pone dei problemi. Ovvero il fatto che questa grande sensibilità ha un rovescio della medaglia, che è il fatto che noi abbiamo dei segnali che a volte possono essere non così specifici. Abbiamo degli artefatti. Dobbiamo discriminare tra ciò che è vero e ciò che non è vero. tra ciò che è certo e ciò che non è certo. Allora, rispetto al caso di O.J. Simpson, sono passati tanti anni. Lì il dream team di O.J. Simpson, il dream team di avvocati, riuscì a instillare ragionevole dubbio, perché eravamo agli inizi. Anche gli americani hanno avuto i loro problemi. Cioè, ognuno di noi ha avuto il suo meredith, diciamo. Questo l'abbiamo avuto perché, di fatto, ancora bisognava standardizzare il procedimento. La repertazione, la catena di custodia, tutte queste cose le abbiamo imparate attraverso gli errori. Abbiamo imparato attraverso gli errori degli altri paesi e attraverso gli errori nostri. Questo è un aspetto molto importante. La catena di custodia, io devo poter dimostrare che il campione, nelle esatte condizioni in cui era sulla scena del crimine, è arrivato al mio laboratorio. Non necessariamente io, anzi, noi non partecipiamo alla fase di repertamento. E allora può capitare che i campioni, deve accadere che quel campione sia sigillato in modo tale che io possa garantire che tutto quello che faccio su quel reperto lo faccio su un reperto che è nelle stesse condizioni in cui era all'origine. Vedremo poi domani, per coloro che rimarranno, in che modo è possibile dimostrare questo. Ci sono dei sistemi molto semplici che dimostrano la catena di custodia, che consentono di dimostrare che nessuno può avere alterato lo stato di quel reperto. Allora, abbiamo detto quali sono le fonti di ambiguità. Abbiamo queste tecniche così efficaci, abbiamo questi strumenti così sensibili, però perché abbiamo ancora dei problemi? Ed anzi, ci diceva, dai la stessa traccia biologica, 10 esperti ti danno 10 risposte diverse, se nel caso magari dei misti. Questo è vero. Sta diminuendo questo problema, è ancora vero. Perché ci sono dei momenti, ci sono delle analisi che sono piuttosto complesse, che richiedono magari giorni e giorni di discussioni tra i propri collaboratori, nei propri laboratori. Questo è assolutamente normale ed è giusto che sia così. Io dico sempre che se non avessimo i campioni complessi non avremmo... non c'è evoluzione nel modo più assoluto. Allora, uno dei problemi principali, devo dire, è quello dell'errore della trascrizione. Questo in genetica medica è stato dimostrato. L'errore principale, nei referti medici, è la trascrizione. Non è il momento in cui fai l'analisi, che quando fai l'analisi sei più concentrato. Il momento in cui la devi riportare, usi degli stamponi, usi dei report già fatti, e lì puoi fare un errore, che in genetica vorenza è complicato. Adesso, fortunatamente, andiamo verso un'automazione. Ovvero, il report dei dati può avvenire anche in modo automatico. Minore è l'impatto umano, maggiore è la possibilità di errore. Però qui non voglio essere frainteso, perché l'impatto umano io intendo non dove devo interpretare il dato, perché lì il fattore umano c'è, e c'è ancora. Sono state sviluppate tantissime piattaforme informatiche, alcune le trovate anche in rete, che cercano, tu metti dentro il profilo e ti danno una possibile interpretazione. Io dico sempre attenzione, perché c'è sempre la necessità della sensibilità dell'operatore. Vediamo allora in che modo le possiamo risolvere. Perché le possiamo risolvere. Cioè, la cosa che io voglio dire è come vi dico che queste problematiche esistono e possono determinare una non riproducibilità del dato o una non solidità del dato. Io, qualsiasi genetista forense con gli attributi, è in grado di discriminare tra un dato certo ed uno no. Su questo dobbiamo essere chiari. Se non sono sicuro neanche lo riporto. Non sono sicuro. Io dico sempre che il DNA forense non può dare risultati, non ci sono 50 sfumature di grigio. Cioè, o c'è o non c'è. Poi possiamo avere dei risultati inconclusivi, ma dietro l'inconclusivo, dietro la definizione di inconclusivo, noi stiamo dando già un risultato. Questo è quello che per me è importante. Poi è ovvio che ci sono dei dati che statisticamente non reggono. Poi vedremo, ci sono alcune sfumature di grigio, ci sono. Perché è ovvio che ci sono delle situazioni nelle quali noi ci troviamo in condizioni intermedie. Vi faccio un esempio. Uno degli errori principali che c'è stato è stato quello della statistica. Si va, non lo sa. La statistica, perché se io dico al magistrato, guarda che è lui al 99,9%, o 99,99%, e il Giorgio dice, già è lui. In realtà ho una probabilità di errore di 1 su 10.000. Questo è meno accettabile. 1 su 10.000 vuol dire che, se la frequenza è quella, il margine di errore è 1 su 10.000, vuol dire che a Roma ce ne sono 400. Così. Allora forse è diverso. Il dato sembra diverso. È lo stesso, lo stesso numero. Però sembra diverso. Il modo che abbiamo imparato adesso è a riportare i dati. Abbiamo degli strumenti in cui la sensibilità statistica è superiore. Però questo è uno degli esempi che abbiamo avuto. Quindi, attenzione, sapere, saper fare, saper dire. Saper dire anche, capire che la persona che mi sta ascoltando non è pratico di queste cose. Noi in Italia siamo molto distanti da questo. Uno degli obiettivi del nostro master è anche quello di cercare di unire l'anima giuridica, cercando di dare quei rudimenti, ma devo dire che non abbiamo avuto un grosso successo. Lo devo dire sinceramente. Abbiamo avuto una grande risposta dai tecnici. Il mondo giuridico non si è eccitato dalla nostra proposta. Perché effettivamente non sempre è richiesta quella competenza e quindi si rimanda. In realtà questo è un problema grosso che abbiamo. È un problema grosso anche perché dobbiamo pensare ad una cosa che a svolta, ad esempio, durante il dibattimento neanche sono ammesse le domande dirette al consulente. E questa è esperienza di chiunque è stato in dibattimento. Che avere un avvocato che un minimo mastica le cose è meglio. O un procuratore. Piuttosto che... Perché se non mi ammettono il dibattimento diretto, perché non lo ammettono non per ragioni stupide, ma perché molto spesso non si capisce più niente. Poi tra tecnici io do una risposta, sino da un'altra e diventa un dibattito prettamente tecnico e non si capisce più niente. Per cui di solito non lo ammettono più. Quando non lo ammettono tu sei sempre mediato da qualcun altro che di fatto vanifica quello che tu vuoi dire. Questo è un altro aspetto importante. Questo unione delle anime, l'anima giuridica, l'anima scientifica è importante. E anche questa è una fonte di ambiguità. Ma vediamo, abbiamo le SOP, le procedure standardizzate, che ci devono aiutare a definire i criteri interpretativi. Quello che io dico ai miei collaboratori è che noi, quando iniziamo un accertamento tecnico, noi dobbiamo stabilire le regole del gioco subito. Cioè nel mio laboratorio si gioca così. Questo è il protocollo, eseguo queste analisi, con queste medodiche faccio questi controlli, i controlli negativi, i controlli positivi, il controllo dell'estrazione, il controllo che nei reattivi non ci sia inquinamento. Ho tutti i parametro, lo dico prima. Questo è l'unico modo che abbiamo per essere sicuri che vi sia condivisione all'inizio. Perché nessuno che fa le analisi ha voglia di sbagliarle. Questo deve essere chiaro, insomma, che gli errori non sono mai volontari. Gli errori sono sempre, accadono per difficoltà, per inefficienza, per imperizia, per sfortuna. Però accadono. Allora, se noi ci mettiamo d'accordo prima, le mie procedure operative sono queste. La dottoressa Caglià viene da me, io dico, è così che funziona. Io interpreto in questo modo, il misto lo interpreto in questo modo, se ho più di tre persone non lo interpreto, lo sai prima. Non voglio neanche toccarli ancora i reperti. Te lo dico prima come io lavoro. Questo penso che sia un aspetto importante che dobbiamo imparare. Ma dobbiamo essere nelle condizioni di averlo scritto questo. Questa è la qualità. La qualità non è soltanto, come si diceva, il bollino sul laboratorio, o il sistema di ariazione, o le pressioni negative, le pressioni positive. La qualità è la qualità delle persone. La testa che hanno nell'affrontare i problemi, nel dimostrare le cose che stanno facendo. Allora abbiamo il discorso della degradazione. Il DNA si degrada, si rompe. Abbiamo visto con la dottoressa Petrangeli quanto sforzo si sta facendo per cercare di avere sistemi che riescano ad analizzare anche la traccia più piccola. Questo è normale che sia così. E si sta facendo questo. si frammenta in tanti piccoli pezzi. Vedete, questo è un tema che noi abbiamo oggi. Consentono di analizzare frammenti molto molto piccoli. Ma, a volte, questa degradazione è talmente intensa che noi non riusciamo ad interpretare il dato. Questo no. Ma il DNA degradato può non dare nessun risultato. Io dico sempre, e questo è un aspetto importante, abbiamo parlato di quantità, abbiamo parlato di qualità. Meglio avere poco materiale buono che averne tanto degradato. E questo discorso della quantità di materiale vedremo, specialmente domani, per coloro che rimarranno, è un discorso che comincia ad essere vecchio. Anzi, è vecchio. Non cominciamo a dire che i risultati di un laboratorio, la qualità dei risultati dipendono dalla quantità di materiale di partenza. Perché questo discorso non è valido più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io, io devo stabilire quello che per me è un segnale che io interpreto e quello che per me è un segnale quantitativamente che non interpreto. Cioè, quanto forte riesco a sentirle le parole quando vengono nominate? Questa è la domanda. Se io lo dico prima, per me, oltre questa soglia di decibel, o quello che è la quantità di fluorescenze che rileviamo, per me quel segnale è valido. È valido, a prescindere, se lo devo avere sperimentalmente dimostrato, dalla quantità da cui parto. Per due ragioni questo. E su questo sono fortemente convinto. La prima è che se stiamo tutti zitti qui e io parlo piano, voi mi ascoltate lo stesso. Se io parlo forte, ma parlate tutti insieme, non mi ascoltate. È la stessa cosa sul DNA. Dipende da quanto è pulito il segnale che io se ritengo generale che viene prodotto dalla macchina e quanto è bello il segnale che io invece ottengo. Se stiamo tutti zitti io posso anche sentire bene qualcosa che è detto piano. Lo devo però sperimentalmente dimostrare, se no parlo. Sono parole. Lo devo sperimentalmente dimostrare. Questi sono i criteri interpretativi. All'aumentare della dimensione dei sistemi che io voglio utilizzare diminuiscono la mia capacità di ottenere risultati, diciamo, interpretabili. Ma che cosa voglio dirvi? Che la quantità del materiale, anche abbiamo parlato oggi con la dottoressa Petrangeli che ovviamente per ragione di tempo ha dovuto fare soltanto alcuni accenni. La quantità di materiale genetico non è mica così facile da determinare. Cos'è la quantità? La quantità è noi abbiamo dei sistemi, faccio una PCR che conoscete tutti e mi dice quanta quantità ho. Ma quella non è la quantità di materiale. È la quantità che è rilevata da quella PCR. Non è la quantità di materiale. Io faccio un'analisi, una sonda, come vi hanno detto, verifico quante di quelle copie ci sono di quella specifica regione. E può essere anche che io non sia così nelle condizioni di poter dire che tutte le copie sono uguali. Mi faccio un esempio. Il fatto che la mia maglietta sia sporca in un punto non vuol dire che sia sporca in tutti i punti. Il fatto che il mio DNA non è ben rappresentato in una regione non vuol dire che nelle altre io non possa avere qualche materiale in più che mi consente di analizzarlo. Allora, il fallimento dell'amplificazione non sempre è l'assenza del materiale. Vedete la differenza della interpretazione? Perché siamo in difficoltà? Perché io posso dirvi le cose in modo diverso, però ci potrebbe essere qualcuno che mi dice a me non mi interessa. Il risultato ti è venuto negativo e tu non procedi. Ed è vero lo stesso. E io vi devo riportare le scuole di pensiero perché di questo è il mio argomento oggi. Eh, le problematiche interpretative. Io interpreto in un modo. Un altro specialista interpreta in un altro. Questo dobbiamo risolvere. Ma lo risolviamo sempre e soltanto con le procedure standardizzate interne. Ce lo devo dire prima. L'ho sperimentalmente dimostrato. Quello studio che vi ha fatto vedere la dottoressa Petrangeli mi serviva proprio per questo. È uno studio pilota per vedere ma che risultato specifico che io ottengo da quantità basse con i sistemi di adesso. Perché questo è anche il problema. Lo devo dimostrare nelle mie condizioni con quell'operatore, con quello strumento, in quel laboratorio devo ottenere quel risultato. Questo per me è standard operating procedures. Queste sono le operazioni. E qui vi ho fatto vedere un'altra ipotesi in cui è possibile che noi abbiamo delle mutazioni lì proprio dove andiamo ad analizzare il DNA. Perché il DNA muta. Siamo dei genetisti, non siamo degli smanettoni che assemblano i pezzi e mandano le analisi. Perché questo faremo un lavoro pessimo. E le mutazioni accadono. Accadono nelle persone che purtroppo vengono da noi i bambini malati delle malattie genetici e dicono ma com'è possibile che sia venuta proprio quella mutazione? Purtroppo accade. Accade per le malattie. Accade nei sistemi che noi vogliamo considerare. lo dobbiamo considerare questa ipotesi. Abbiamo gli strumenti per dimostrare la presenza di questo. Abbiamo gli strumenti per ovviare la loro presenza dal punto di vista quindi la mutazione, l'evento che il sistema non è così stabile che noi pensavamo. Questo può succedere. Ne abbiamo parlato di questo. Un allele può scomparire rispetto ad un altro. È possibile. Molto da questo punto di vista non è frequente ma può succedere. Ma questo deve essere chiaro. È un problema che non attiene all'identificazione ma al test di paternità perché le mutazioni avvengono da una generazione ad un'altra. Non nella stessa generazione. Quindi se io lascio una traccia biologica non ci può essere una mutazione che anche questo mi è stato detto. Non è biologicamente accettabile ritenere se non per cose molto particolari che il mio DNA che ho lasciato è diverso da quello che ho preso ovviamente. Quindi un conto che passa da una generazione ad un'altra e cambia un conto che invece è la mia traccia biologica. Questo è un aspetto che volevo sottolineare e che va chiarito. Un conto degli accertamenti che voi fate nella generazione e un conto degli accertamenti che fate nelle generazioni ovviamente. Da una parte avete tutte le variabili tecniche nella generazione identificazione personale. Dall'altra parte avete tutte le variabili oltre alle tecniche avete anche quelle generazionali dell'evento mutazionale. Ho quasi cerco di accelerare. Allora e qui chiaramente abbiamo la possibilità di vedere che questo risultato rispetto a questo possa avere subito un problema ad esempio perché la quantità è bassa e qui vedete dei segnali bassi questo è un reference ad esempio e questo non è tornato perfettamente può succedere questo ma noi sappiamo come affrontarlo addirittura è una cosa molto bella che è uscita nella nuova commissione degli SFG possiamo quantificare questa probabilità perché io dico è avvenuto questo sì perché in dibattimento è sempre avvenuto il DNA è avvenuto non torna perfettamente perché c'è stato qui un drop out qui non è venuto bene qui c'è un artefatto quante probabilità diverse devono essere avvenute in quel profilo per farlo tornare o per non farlo tornare tutto si può dire ma si deve quantificare semplicissimo c'è la probabilità che siano avvenuti tre drop out nel tuo campione nel tuo laboratorio qual è questa probabilità uno su cento miliardi sarà il giudice a decidere se uno su cento miliardi è una probabilità accettabile è probabile oppure no allora cosa vedo io dietro l'angolo per cercare di accelerare un po' io vedo che sicuramente ci vuole la competenza dei laboratoristi la formazione dei laboratoristi che devono avere delle formazioni diverse quello che diceva la dottoressa Caglià è verissimo rispetto a 4-5 anni fa già abbiamo dei modi di ragionare diverso quello che si diceva è anche verissimo non mi puoi oggi valutare una traccia con i criteri che abbiamo oggi oggi io per venire qua abbiamo studiato eppure lo facciamo tutti i giorni di sto lavoro abbiamo studiato ci siamo preparati ieri abbiamo fatto tardi abbiamo fatto una bellissima cena e mi sono dovuto preparare la presentazione anche stamattina perché uno deve studiare le cose perché cambiano ogni giorno e voi pensate due anni in questo momento sono un'era e allora noi andiamo ad analizzare delle tracce biologiche fatte due anni fa e allora siamo tutti bravi a dire ma tu non l'hai fatto questo non l'hai detto allora attenzione perché questo poi la sensazione che ne ha il pubblico è che dice ma questi allora ma le sanno fare le analisi oppure no ma i problemi che abbiamo noi ce li hanno tutti noi siamo un po' meno bravi noi siamo più bravi ad infuocarle questi dibattiti però ce li hanno tutti i paesi sono tutti gli scienziati del mondo che parlano di questi problemi qui non è che ce li abbiamo solo noi perché prima qualcuno mentre pensavamo mi hanno detto ma la sensazione che abbiamo è che ogni volta non risolvete ogni volta qualcuno dice qualcosa di diverso e che non è così la maggior parte delle cose si risolve quelle che vengono all'attenzione sono quelli che non si risolvono non si risolvono perché ci sono delle ragioni obiettive di solito perché sono difficili o perché ci sono altre motivazioni una cosa che volevo dirvi su questo ne parliamo domani è questo che io questo è la strategia che si può utilizzare nel laboratorio per dire questo è il segnale di base del mio strumento quindi il chiacchiericcio è di base quando io supero questa soglia sento bene quando ne supero questa vuol dire che ho sentito tutto e questa è una cosa che può essere sperimentalmente dimostrata è chiaro che io sto semplificando però il criterio è esattamente quello che mi interessava sulle tracce miste io voglio solo dirvi questo che uno dei problemi principali delle tracce miste sono due le cose su cui si dibattono a mente nei processi la natura della traccia che cos'è abbiamo liquido seminale abbiamo la saliva abbiamo il sangue ciò che non è queste tre cose si va per esclusione non si può dire che cos'è questo è un altro aspetto se non è sangue se non è saliva se non è sperma non posso dire che cosa è e questa è la prima cosa nella traccia mista oltre al problema che quando i due contribuenti sono insieme si mescolano le loro caratteristiche generiche questo può complicare la loro identificazione è che si mescolano anche i tessuti allora cosa vuol dire questo vuol dire che io magari posso avere due tracce di sangue o se ho una traccia di sangue con una cellula epiteliale il test generico mi darà solo sangue posso dire che è una traccia mista di sangue no le tracce miste danno questi problemi proprio per questo perché non è detto che io possa definire la natura se ho sangue misto a sperma si vede benissimo anche sangue misto a saliva si vede ma se invece ho un tessuto e un altro posso non vederlo questo non lo posso dire è sicuramente sangue perché la quantità è elevata chi ha detto non l'accetto come lo puoi dimostrare no allora non lo dire cerchiamo di cominciare a non dire quello che non è dimostrabile già siamo un passo avanti e un'altra cosa sempre sulle tracce miste ma la traccia mista è identificativa questa è una bella domanda cioè quando io ho la quantità perché sono tutti bravi a dire due campioni singoli ho una traccia biologica singola il suo tampone buccare di reference matchano la probabilità è uno su miliardi di miliardi che possa esserci una cosa casuale basta il ricorso è chiuso non si discute più di questo ma sulle tracce miste che cosa dobbiamo considerare che la traccia mista può essere questa vedete questo è un sistema ho due individui insieme quattro alleni quindi sono un cromosoma da padre e uno da madre di un soggetto un cromosoma da padre uno da madre dell'altro lo stesso qui ma i contribuenti sono diversi questo è di più e questo è di meno e poi abbiamo questi questi li chiamano distinguibili questi li chiamano indistinguibili ininterpretabili e via è ovvio che questo è una cosa importante anche che il laboratorista si osserva delle cose e ho detto questo non neanche le faccio non mi ci metto proprio a farle questo bisogna dire non ne scrivo non le riporto non le analizzo questo va detto prima che cos'è per me non interpretabile lo devo dire prima ci sono più di tre persone non lo interpreto questo dobbiamo dire prima perché a volte a volte devo dire gli errori sono a monte perché chiunque sta in un laboratorio sa che ci sono dei risultati che non si presentano non si presentano perché non reggono non hanno quei requisiti di solidità per essere presentati perché se li presento poi dopo possono alterare quelle che sono le percezioni di coloro che invece devono giudicare e su questi ho detto la domanda è una traccia che contiene più di un DNA mi consente di dire sei tu che l'hai fatto sei tu che hai contribuito perché è molto semplice io posso dire se ho un soggetto che ha AB e un soggetto che è CD posso semplicemente dire magari questo avviene di solito una violenza carnale facciamo un esempio questo è l'aggressore abbiamo fatto una differenziale non è avvenuta benissimo questo è l'aggressore e questa è la vittima questo lo posso identificare ci sono dei calcoli poi posso dire lui o devo dire non posso escludere che sia lui in realtà è Silvano Presciuttini che ci darà la risposta perché è soltanto la statistica che ci deve dire se io sono in condizioni di identificativo o no io ho un approccio molto lineare su questo se vi risparmio le cose tecniche che possiamo aprire a vedere se lo ho capito e poi se lo so spiegare però al di là di questo è che è molto complicato arrivare a fare questo discorso perché qui ci sono due approcci ad esempio che uno dice ma sai è sicuramente A e B un soggetto e C e D un altro perché è tale la differenza che c'è della quantità che questo è un soggetto che viene dal padre e dalla madre di questo e questo quindi c'è una quantità differente che mi consente di discriminarli e quindi si dice devo avere un approccio che è ristretto all'intensità di fluorescenza rilevato dove devo dire non è possibile pensare che una persona possa essere B e C e quindi che l'altro sia A D ad esempio ma tutto questo ha una base statistica devo vedere quanti segnali ho rilevato lo devo aver stabilito prima devo avere esperienza a fare queste analisi devo aver fatto delle prove di validazione e quindi vorrei concludere questa cosa con l'approccio statistico approccio statistico che mi seguirà dopo la pausa pranzo ti abbiamo perfettamente ripreso la marcia e è la chiave di tutto se io dovessi scommettere sulla professione di domani per un biologo è la statistica forense legata alla genetica io su questo ne sono convinto perché le cose possono diventare molto complicate e perché per lo stesso discorso che ha fatto il professor arcudi che ognuno deve avere la sua specializzazione vi posso assicurare che anche nella genetica forense non è così facile essere bravi a campionare tipizzare interpretare e fare i calcoli statistici che pure questo vuole un team anche nella disciplina non solo nella medicina forense ma anche nella genetica forense questo è un aspetto che io dico sono tante le professionalità che devono se ho un problema io devo andare da Silvano se non ho qualcuno che mi consente di farlo noi stiamo formando degli statistici perché mi servono perché di fatto sono loro oggi che danno la qualità del risultato io posso riportarla posso essere bravo a fare le analisi ma è soltanto la statistica che mi dice se quella prova è affidabile riproducibile oppure no da punto di vista numerico io dico sempre che quello è il metodo che abbiamo per mascherare diciamo per capire anche noi che risultato abbiamo qual è la probabilità che sia un altro e non sia lui perché questa è la domanda che noi ci possiamo a un certo punto noi al magistrato dobbiamo dire è lui o non è lui sto banalizzando la probabilità che non sia lui qual è la voglio quantificare me la devono dire lo statistico me lo deve dire dopo che ho analizzato le tracce nel mio laboratorio e una volta che ho quel dato posso ragionare ma non portiamo più e questo è il messaggio finale che voglio darvi dati che non possono essere dimostrati tutto quello che noi dobbiamo dire tutto quello che noi possiamo dire deve essere dimostrabile quello che non è dimostrabile o statisticamente o scientificamente è bene che ce lo teniamo perché sono opinioni e le opinioni non dovrebbero entrare nei processi grazie grazie a tutti grazie a tutti